togliere le cose di mano, fatte le stesse cose qua Nutella e il formaggio e il formaggio mettiamo un po' di Nutella con cosa? con cosa la mangia Nutella con cosa la mangia Nutella con il formaggio con il formaggio e parmigiano si è buona e beh può essere un nuovo gusto un nuovo sapore buono? e com'è? perfetto bene